Ciao a tutti ragazzi, siamo qui al tavolo di Sergio Castelluccio e a Zarone, seguiamo la mano che li vede coinvolta, è un tavolo veramente molto impegnativo con anche Luca Pagano e Giannino Cart seduti allo stesso tavolo. Andiamo a seguire l'action di questa mano, vedete il piatto già molto abbondante, andiamo a ricordare anche il board che recita Jack Quarry, 8 picche, 2 cuori, 9 fiori e 5 di cuori. C'è stato già il check di Sergio Castelluccio da UTG, anzi scusate da Small Blind, check anche di Azzarone da cutoff, mentre invece il bottone mette 4200, ora vediamo se ci sarà il call di Sergio o no, c'è il fold, Azzarone invece sembra intenzionato a fare azione, c'è il call. 2,9 per Azzarone, set over set, vedete l'avversario che mostra 2,2, quindi set over set e ancora una volta il piatto va ad Azzarone che vi ricordiamo era il protagonista dell'eliminazione anche poc'anzi di ombre rosse. Noi ci diamo appuntamento i prossimi aggiornamenti video, siamo durante il quinto livello di giornata, vi ricordo 6 livelli prima della pausa cena e successivamente altri 3 livelli per chiudere la giornata. Non mancheranno ulteriori aggiornamenti video direttamente dalla sala, ovviamente seguiterà il video blog live direttamente sulle pagine del forum per seguire in diretta tutte le mani di giornata. Ciao a tutti!